Hai sempre sbagliato a usare lo spray nasale Non andare indietro con la testa Non direzionarlo verso l'alto E non sniffarlo troppo forte Se fai così rischi che ti finisca in gola Che ti esca sangue dal naso Ma soprattutto che non faccia molto effetto Ecco il modo corretto Ma prima seguici Soffiati il naso, gentilmente Testa in avanti Togli il tappino E posizionale in modo che punti verso l'orecchio Un trucco è usare la mano opposta alla narice Ora tappa l'altra narice Premi fino in fondo, ispirando Piano Così lo fai arrivare bene in tutto il naso Ed è più efficace Ripeti nell'altra narice E cerca di non soffiartelo per un paio di minuti